Oh, papino, corri, corri, corri. Non funziona più, non funziona più, papino. Cos'è successo? Non funziona più il nasino. È rotto. Ma come? Io sono uscito a fare una passezzata, ho incontrato un pezzino francese che tornava dalla palestra, l'ho salutato e... No! Ehi... Non mi dire che... Eh, gli hanno usato il pertuzzo. Ma no! Mamma mia, che sposa! Eh, ti sta bene? Una sposa di cappette sudate. Ah, che schifo! Eh, adesso non va più il nasino. Senti, anche tu sposa di limone ammuffito su tazzetto? No! Ecco, vedi? Nasino traumatizzato. Povero è il mio nasino. Eh, così impari a ficcarlo nel cu... Eh? ...per tu, Gio, della gente. Si chiamano indazzini di pezzinato. Ma cosa non vuoi sapere, tu? Sì, dai, respira lungo che ti passa. Sicuro? Sì? Bah, non sembra funzionare. Ah, ah, eh, aspetta, aspetta. Ecco, vedi? Eh, adesso sento sposa di piedini. Ecco. I tuoi. Ma cosa? Ma guarda che sei, proprio. Ma volevo aiutarti. Ma là, ma ti senti qui che gorgonzola, mano mia?